Al via da questa mattina la fase 2 dell'emergenza coronavirus con l'allentamento delle restrizioni almeno 4 milioni e mezzo di persone tornano al lavoro. In crescita la mobilità nei grandi centri ma al momento senza particolari criticità. Traffico stradale contenuto mentre osservati speciali sono metro, bus e stazioni ferroviarie. I trasporti restano infatti lo snodo cruciale per tenere sotto controllo l'epidemia. Con il progressivo calo dei contagi restano però limiti e cautele. L'obbligo di indossare le mascherine nei luoghi pubblici e rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro. Tutto il paese resta sotto stretta osservazione con le autorità sanitarie che non escludono di reintrodurre misure restrittive a livello locale se la curva del contagio dovesse tornare a crescere. Settimana decisiva per il varo del decreto con nuove corpose misure economiche per complessivi 55 miliardi a sostegno di imprese, famiglie e lavoratori. Maggioranza divisa su alcuni punti del provvedimento, in particolare il reddito di emergenza e l'intervento dello Stato nel capitale delle piccole e medie imprese in difficoltà. Questa sera Conte ha convocato un nuovo vertice con il ministro Gualtieri e responsabili economici delle forze di maggioranza. Si dice esterefatto il ministro della giustizia Bonafede che parla di percezione errata smettendo le accuse lanciate dal magistrato antimafia Di Matteo. Nel 2018 mi offrirono la direzione dell'amministrazione penitenziaria, ha detto Di Matteo ieri sera a Nonella Arena. Ma poi il ministro non mi ha voluto anche per le reazioni di alcuni boss al 41 bis e fu nominato Basentini. La Lega insorge e chiede le dimissioni di Bonafede. Gli fanno eco Fratelli d'Italia e il Renziano Ferri. Con modalità diverse, molti paesi europei iniziano la fase 2, riapertura graduale in Spagna e Francia. In Germania tornano a scuola gli alunni, fino all'elementare riaprono musei e parrucchieri. Al via anche molta attività in Portogallo. Oggi a Bruxelles si apre la conferenza internazionale dei donatori con l'obiettivo di raccogliere 7 miliardi e mezzo di euro da destinare alla ricerca di un vaccino contro il Covid. Abbiamo le prove che il virus arrivi dal laboratorio di Wuhan e che abbiano fatto di tutto per nasconderlo, dice il segretario di Stato Pompeo. Mentre Trump rincara la dose accusando Pechino di aver insabbiato informazioni vitali sui rischi del contagio. Gli attacchi del Presidente, che promette un vaccino entro la fine dell'anno, si riaccendono in vista delle presidenziali di novembre. Potrebbero essere una mossa strategica della campagna elettorale. Da oggi gli sportivi professionisti tornano ad allenarsi. Il Via Libra riguarda solo le discipline individuali con una deroga per il calcio. I giocatori potranno allenarsi, ma da soli per le sedute di squadra bisognerà attendere almeno fino al 18 di maggio. Per il Ministro Spadafora per ora non si parla di campionato. Anche Federica Pellegrini, dopo sei settimane, torna in vasca a Verona. Buongiorno e bentrovati a tutti voi dal telegiornale della Sette. Dunque l'Italia prova a ripartire. Sono più di 4 milioni le persone che questa mattina sono tornate al lavoro. La metà al nord si riaprono settori molto importanti dell'industria italiana. Il settore manufatturiero, quello legato alle costruzioni, il settore tessile e della moda. Di fatto praticamente vengono allentate alcune misure. Ma naturalmente è un rientro molto cauto, molto graduale. E' una ripartenza, appunto, più volte l'ha ribadito anche il Presidente del Consiglio Cauta. Non è un via libera a tutti, siamo ancora in piena pandemia. E' il futuro e nelle nostre mani, ha detto il Presidente del Consiglio, facendo naturalmente appello alla responsabilità di tutti noi. Sotto osservazione sono però i mezzi pubblici, il trasporto locale. Allora vediamo come è andato nelle principali città italiane, Roma, Milano e Napoli. Una partenza prudente in quasi tutte le grandi città. L'attesissima fase 2, almeno in queste prime ore, è stata ordinata e decisamente meno affollata del previsto. Niente file e traffico scarso in tutte le vie di accesso ai centri urbani. Gli autobus a Roma girano semivuoti. Tutti i posti a sedere disponibili sono segnalati da cartelli. Personale privato gestisce con gli autisti della municipalizzata l'afflusso dei passeggeri. Anche le stazioni più grandi, come la centrale di Milano e Termini a Roma, non presentano criticità. Passeggeri in file ordinate, muniti di mascherina, guanti ed autocertificazione, indispensabile quanto il biglietto. Da segnalare invece l'affollamento della linea ferroviaria cumana di Napoli, che collega il centro con Pozzuoli e la zona flegrea. Questa è la stazione Montesanto. Stamattina alle 8 centinaia di passeggeri escono in massa dal treno anche a bordo. Denuncia il sindacato USB. Zero controlli e zero distanziamento sociale. Le persone erano ammassate nei vagoni. Diversa la situazione in stazione centrale a Piazza Garibaldi, dove i medici misurano temperatura e nel caso fanno test rapidi a tutti i passeggeri in arrivo. Termoscanner anche alla stazione Termini di Roma, dove i treni sono tutti così, con segnalazioni sui sedili ed entrate ed uscite rigorosamente diverse per evitare ingorghi. Alla stazione centrale di Milano non c'è stato alcun assalto ai vagoni per il ritorno al sud. Due treni diretti a Napoli avevano un centinaio di passeggeri a bordo, meno del 10% della normale capienza. In tutte le grandi stazioni il personale è provvisto, oltre che di normali dispositivi di protezione, anche di visiera in plastica. Si susseguono gli avvisi dall'altoparlante per ricordare di mantenere il distanziamento durante le file. Niente resta neanche la stazione di Porta Nuova. Il primo frecciarosso diretto al sud è partito semivuoto. Anche a Firenze il traffico è molto scarso. Siamo contenti che il 4 maggio non sia stato un Tana Libera Tutti, ha detto il sindaco Nardella all'aeroporto Peretola riaperto oggi. Qualche preoccupazione in Sicilia per il rientro dei fuorisede. I due voli da Roma oggi per Palermo registrano il tutto esaurito. L'abbiamo visto in queste immagini. Fondamentale naturalmente è la mascherina. In alcune situazioni diventa obbligatorio portarla. La mascherina in questi mesi è stata al centro del dibattito, sia scientifico sull'utilità di portarla o meno, ma anche dello scontro politico. Lo ricorderete tra le regioni e il governo centrale, perché di fatto non si trovava. Il commissario per l'emergenza Arcuri ha detto che non ci sono più problemi di approvvigionamento e praticamente ha posto anche un costo massimo di 50 centesimi. Ma effettivamente la mascherina si trova ancora? Si trova? Voi avete a disposizione le mascherine a 50 centesimi? Quale promesse dal governo? No, al momento ancora non ho. Ma che voi sappiate arriveranno? Arriveranno, sì, ci dicono in settimana. Abbiamo le FP2, 7,50 luna, o le lavabili con i nanocluster di carbonio, 12,50 luna. Le mascherine a prezzo calmierato, 50 centesimi luna per le chirurgiche, IVA compresa, sembra non averle trovate ancora nessuno. Eppure il commissario Domenico Arcuri ha siglato accordi perché fossero disponibili già da oggi. Giorno della ripartenza per molti, Confcommercio e grandi supermercati hanno garantito la disponibilità in più di 21.000 posti vendita, 7.000 con federdistribuzione. Considerando anche l'intesa già siglata con 30.000 parafarmacie e quella con i tabaccai, il numero dei punti vendita di mascherine a prezzo calmierato sale potenzialmente a 100.000, circa una ogni 600 abitanti in tutta Italia. Eppure oggi molti farmacisti dicono che a loro non sono arrivate mentre sono disponibili quasi ovunque le mascherine a cifre ben diverse. Io perché lavoro in un panificio e i guanti me li danno loro, però sono introvabili, introvabili. La nostra categoria ovviamente è un po' confusa perché tutti quelli che le hanno le hanno pagate di più e quindi so che in alcune farmacce addirittura hanno sospeso questa vendita di queste mascherine. Delle pediatriche avete avuto qualche notizia? Anche lì andiamo sempre in ordine con i truoli, ma io confido che in settimana si sblocchi qualcosa. Introvabili, per ora i guanti usa e getta, qui siamo a Milano e in tutta la Lombardia l'ordinanza regionale ne impone l'uso per usufruire dei mezzi di trasporto pubblico. I guanti sono veramente introvabili, i guanti è un problema. No, ho fatto fatica e li avevo presi ancora un po' di tempo fa una confezione quindi li sto centellinando alternandoli con questi di cotone. La richiesta di dispositivi di protezione individuale è destinata ad aumentare. CISL Scuola stima che con la possibile riapertura a settembre degli istituti per garantire la sicurezza di docenti e alunni tra guanti, mascherine e dispositivi vari si spenderebbero ogni giorno 5 milioni e 600 mila euro. I dati del contagio sono confortanti, di fatto accompagnano questa fase 2 nella quale bisogna convivere con il virus dalle governo e dagli scienziati l'appello ad essere responsabile, a rispettare le regole, a mantenere le distanze. Oggi poi però ci sono i dati, dati tremendi, terribili, dell'Istat nel mese di marzo di quest'anno si è registrato in Italia il 49,4% dei decessi in più rispetto al marzo dell'anno scorso e quanto appunto ha rivelato il rapporto Istat sull'impatto della pandemia sulla mortalità. Il coronavirus ha colpito e ucciso in particolare in 38 province, 37 del nord e più Pesaro Urbino e all'interno di questo raggruppamento le province più colpite dall'epidemia hanno pagato un prezzo altissime in vite umane con incrementi percentuali dei decessi nel mese di marzo rispetto appunto al mese di marzo dell'anno scorso a tre cifre per esempio la provincia di Bergamo il 568% in più. E la paura più grande, il passaggio dalla fase 2 della ripartenza al dietro fronte è lo spettro da allontanare, per questo tecnici e scienziati pronti a esaminare dati e grafici nelle due prossime settimane, il tempo utile per valutare la diffusione del virus battono su un punto, comportamenti e cambi di passo nella vita quotidiana saranno fondamentali in questa nuova fase perché se i contagi risalgono dovremo richiudere. Il consigliere per l'emergenza del Ministero della Salute Walter Ricciardi lo dice senza mezzi termini, non si può ancora stare tranquilli questa fase rischiosa, ci sono regioni che sono ancora nella fase 1. A fare da guida c'è il piano del Ministro della Salute e Speranza con 21 indicatori che prevede il monitoraggio ogni due settimane per valutare il trend dei casi, l'attenzione a nuovi focolai con particolare attenzione all'RSA, la tenuta delle terapie intensive la capacità di fare test e il tracciamento dei contatti ma le criticità ci sono anche proprio su questo è sempre Ricciardi a sottolinearle in un'intervista oggi a Repubblica per esempio l'app Immuni non è ancora pronta, dice e segnala anche la confusione che regna sull'uso dei test è vero, si fanno più tamponi, spiega Ricciardi ma non in tutte le regioni, in questa attività bisogna crescere escluso il Veneto fino ad oggi, questo è stato il punto più debole tra gli indicatori c'è l'obbligo di dimostrare che una regione è in grado di effettuare test per scoprire chi è positivo entro 5 giorni altro parametro da monitorare resta quello delle terapie intensive del numero di accessi al pronto soccorso con sintomi riconducibili al coronavirus il tasso di occupazione dei posti letto totali terapia intensiva per pazienti covid dovrà rimanere sotto il 30% le prossime due date fondamentali saranno dunque il 18 maggio e il primo giugno capire come arriveremo a quelle giornate con quali numeri consentirà gli esperti alla politica di valutare se sia necessario tornare indietro oppure no questo dunque per quanto riguarda l'emergenza sanitaria c'è poi il fronte economico, l'emergenza economica con il decreto aprile che ormai è esilitato a maggio l'obiettivo è quello di portarlo davanti al prossimo consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi giovedì prossimo questa sera ci sarà una nuova riunione del Presidente del Consiglio Conte con i ministri interessati è un pacchetto sostanzioso di 55 miliardi però il varo l'abbiamo visto è molto complesso ci sono anche dei paletti messi all'interno della stessa maggioranza con Italia Viva che chiede meno assistenzialismo Via chat in teleconferenza il confronto procede a oltranza e questa sera è già in agenda una riunione con il Premier Giuseppe Conte il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro i capi delegazione delle forze di maggioranza Alfonso Bonafede, 5 Stelle, Dario Franceschini, PD Roberto Speranza, Leo, Teresa Bellanova, Italia Viva e i responsabili economici dei partiti perché trovare la sintesi sul decreto nato come di aprile ma ormai diventato causa slittamento di maggio non è semplice 55 miliardi di risorse extra da destinare la parte più cospicua degli interventi per l'emergenza coronavirus una gestazione complessa almeno quanto quella di una manovra di bilancio tra i paletti delle forze di maggioranza le aspettative di imprese, lavoratori, famiglie provati da lockdown l'obiettivo è varare il provvedimento in Consiglio dei Ministri entro questa settimana prima che entri nel vivo la partita sommessa Recovery Fund a Bruxelles se sui 14 miliardi per altre 9 settimane di cassa integrazione sono tutti d'accordo le distanze restano sulle altre misure sul reddito di emergenza che i 5 Stelle vorrebbero ricalcato su quello di cittadinanza è affidato quindi all'Inps mentre PD e Italia Viva vorrebbero affidare il sussidio ai comuni sull'ingresso dello Stato nelle aziende confatturato dai 5 ai 50 miliardi che attingono alle risorse pubbliche per ricapitalizzarsi con PD e 5 Stelle favorevoli allo Stato socio ma non imprenditore senza cioè poteri sulla gestione con un meccanismo di riacquisizione successiva delle quote pubbliche da parte dell'imprenditore privato e i renziani che invece sono contrari a ogni forma di ingresso statale nelle aziende e sulle risorse per la sanità con l'EU che chiede più di 2 miliardi e 600 milioni già individuati mediazione affidata a Gualtieri in un clima di tregua dopo l'ultimatum lanciato da Matteo Renzi e distingo di parte del PD e di l'EU sulla gestione dell'emergenza di Palazzo Chigi i malumori tra i 5 Stelle questo governo dovrà andare avanti il più possibile avverte il capo politico pentastellato Vito Crimi c'è normale dialettica politica nella maggioranza ma tutti insieme si arriva all'unico obiettivo che è l'interesse dei cittadini nessuna alternativa a questo esecutivo governo di unità nazionale solo chiacchiericcio sono i mantra di Palazzo Chigi mentre Forza Italia si smarca dall'opposizione ad alta intensità di Fratelli d'Italia e Lega ma nega ogni ipotesi di soccorso azzurro all'esecutivo siamo una forza patriottica e offriamo il nostro apporto in termini di proposte non di voti sotto banco o formulette che nemmeno ci vengono in mente dice il coordinatore Antonio Tajani se la maggioranza andrà in crisi sarà il capo dello Stato a indicare la via le elezioni sono quella maestra per noi se saranno necessarie altre soluzioni vedremo eventualmente quali partendo dall'unità del centrodestra tra l'altro il ministro dell'economia Gualtieri sta illustrando il nuovo piano che prevede anche interventi a fondo perduto e amplia la platea dei lavoratori autonomi che riceveranno una indennità ma oggi arriva anche l'affondo del presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi la risposta del governo all'emergenza si esaurisce in una distribuzione a pioggia del denaro ha detto Bonomi e in autunno si rischia una vera e propria emergenza sociale la risposta del governo alla crisi si esaurisce in una distribuzione di denaro a pioggia si può andare avanti così per uno, due, tre mesi ma quando i soldi saranno finiti e non si sarà fatto un solo investimento nella ripresa del sistema produttivo allora l'approdo non potrà che essere uno l'esplosione di una vera e propria emergenza sociale già a settembre-ottobre le parole affidate dal presidente Inpectore di Confindustria Bonomi al Corriere della Sera sono un pesante atto di accusa nei confronti della risposta dell'esecutivo alla caduta libera dell'economia un tonfo che il governo intende quanto meno attutire con la maxi manovra da 55 miliardi contando solo l'extra deficit in faticosa gestazione ma che già evidentemente fa storcere il naso agli imprenditori come il precedente decreto cura Italia e come il decreto imprese quello sulla liquidità troppo a burocrazia secondo Bonomi eppure stando a quanto riferito dal ministro dell'economia Gualtieri alle commissioni finanze e attività produttive della Camera le domande o comunicazioni di moratoria su prestiti ammontavano al 24 aprile a 177 miliardi di euro con una impennata di richieste di garanzia al fondo negli ultimi giorni è una sacie che a suo avviso si sta dimostrando efficiente tornando a quello che doveva essere il decreto aprile alle imprese dovrebbero essere riservati 15 miliardi di euro con quelle più piccole che godrebbero di finanziamenti a fondo perduto per quelle medio-grandi invece potrebbero esserci incentivi alla ricapitalizzazione senza però novità di compromesso emersa nelle ultime ore interventi pubblici nella governance e nel controllo giudicate negativamente dallo stesso Bonomi secondo il quale lo Stato deve limitarsi a fare il regolatore poi c'è l'ampio capitolo di sostegno al reddito di chi è stato costretto a fermarsi e di chi non ha lavoro 16 miliardi dovrebbero andare al prolungamento fino al 31 ottobre degli ammortizzatori sociali con causale covid per i quali la ministra del lavoro Catalfo ha smentito manchino 7 miliardi di coperture verranno prorogate anche in aspia indennità mensile di disoccupazione così come fino a metà agosto il divieto per le aziende di licenziare ci sarà un intervento per colfe badanti nonché la conferma del contributo di 600 euro per gli autonomi che a maggio salirà a 1000 in caso di calo del reddito del 33% possibile l'introduzione di un bonus ad hoc di 1000 euro per gli stagionali infine il reddito di emergenza per chi non ha entrate dovrebbe oscillare tra i 4 e gli 800 euro mensili e durare tre mesi tra l'altro il ministro dell'economia a Gualtiera a completare il servizio ha detto che l'idea è di varare un ristoro integrale del costo sopportato per tre mesi per l'affitto di tutte le imprese di qualsiasi natura e dimensioni che abbiano subito un calo del fatturato in più ci sarà l'intervento di eliminazione degli oneri fissi per le bollette e che tali interventi si cumuleranno ai sostegni diretti alle imprese questo appunto per quanto riguarda il decreto sul decreto sull'economia però il dibattito dei partiti si sposta anche sul tema delle carceri ad innescare la miccia le dichiarazioni del magistrato Nino Di Matteo che adesso si trova al CSM accusato il ministro della giustizia Bonafede di non averlo nominato alla guida del DAP dopo la reazione di alcuni boss mafiosi intercettati ai colloqui Di Matteo aveva accettato questo incarico ma poi il ministro della giustizia ha praticamente cambiato idea inmediata la replica del guardasigilli sono estere fatto scontro durissimo ma soprattutto inedito per i protagonisti e sorprendente per i contenuti quello andato in onda ieri sera durante la puntata di non era arena di Massimo Giletti da una parte Nino Di Matteo magistrato antimafia protagonista dell'inchiesta sulla trattativa stato mafia diventato per questo icona del Movimento 5 Stelle sin dalle sue origini tanto da entrare nel 2015 nella rosa dei candidati pentastellati al Quirinale e dall'altra Alfonso Bonafede ministro della giustizia finito al centro delle polemiche per il caso Zagaria il boss della Camorra finito ai domiciliari per motivi di salute dopo un lungo braccio di ferro tra il tribunale di sorveglianza di Sassari e il DAP il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria tanto da portare alle dimissioni di Francesco Basentini e alla nomina di Dino Petralia procuratore generale di Reggio Calabria altro magistrato impegnato nella lotta alla mafia da tempo da tempo si parla di un ruolo per Di Matteo ora al CSM all'interno dell'ordinamento giudiziario su scala nazionale magari proprio alla guida del DAP e ieri sera durante la puntata di Noia Arena lo stesso magistrato è intervenuto telefonicamente a svelare un retroscena che tira in ballo Bonafede e che si riferisce al 2018 prima della nomina di Basentini venne raggiunto da una telefonata del ministro Bonafede il quale mi chiese se ero disponibile ad accettare il ruolo di capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o in alternativa mi disse quello di direttore generale degli affari penali e io chiesi 48 ore di tempo per dare una risposta alcune note informazioni che il GOM della polizia penitenziaria aveva trasmesso alla procura nazionale antimafia avevano descritto la reazione di importantissimi capi mafia legati anche a Giuseppe Graviano e ad altri straggisti alla indiscrezione che io potessi essere nominato capo del DAP quei capi mafia dicevano se nominano Di Matteo è la fine andai a trovare il ministro 48 ore dopo avevo deciso di accettare la nomina a capo del DAP lo andai a trovare ma improvvisamente il ministro mi disse che sostanzialmente ci aveva ripensato e che nel frattempo avevano pensato di nominare il dottor Basentini la telefonata ha un effetto deflagrante e provoca l'immediata reazione del ministro della giustizia che interviene anche lui in diretta per ribattere la ricostruzione di Di Matteo io rimango rimango veramente esterrefatto nell'apprendere che viene data un'informazione che chiaramente può essere grave e cioè che la mia scelta di proporre al dottor Di Matteo il ruolo di un ruolo importante all'interno del ministero sia stata una scelta a un certo punto rispetto alla quale io sarei andato indietro perché avevo saputo di intercettazioni Bonafede nega di aver cambiato idea in base alle intercettazioni e insiste sulla percezione errata di Di Matteo sapevo chi era il dottor Di Matteo sapevo che stavo parlando delle carceri italiane sapevo chi stavo per scegliere sapevo quindi e tra l'altro quell'intercettazione era stata se non ricordo male già pubblicata sul fatto quotidiano ma è una percezione del dottor Di Matteo chiusura con il magistrato che conferma la sua versione ho raccontato fatti non percezioni e la sintesi del suo ragionamento sta di fatto che lo scontro su un pubblico ring televisivo ha l'effetto di spostarsi per altri round inevitabilmente ai palazzi della politica tirando in ballo maggioranze e opposizioni con relative polemiche e la richiesta che Bonafede riferisca in Parlamento ecco l'avete appena sentito nel servizio una vicenda alquanto delicata queste dichiarazioni di Di Matteo non sono sfuggite alle opposizioni Lega e Fratelli d'Italia chiedono le dimissioni del Ministro mentre Fratelli mentre Forza Italia chiede che riferisca in Parlamento rivolte evasioni detenuti morti agenti feriti delinquenti usciti dal carcere boss tornati a casa è una nota della Lega primi firmatari Giulia Buongiorno e Nicola Molteni a chiedere già intorno alle 9 del mattino le dimissioni del Ministro della Giustizia prima ancora la stessa richiesta era arrivata con i medesimi argomenti da Fratelli d'Italia e non è neppure l'ora di pranzo quando sulla linea dura si attesta anche l'attascerrenziano per la giustizia Cosimo Ferri Bonafedes di Metta dice mentre Forza Italia e PD puntano su un passaggio del Ministro davanti alla Commissione Antimafia per chiarimenti è il segno di quanto pesante sia il rimbalzo delle rivelazioni del PM Antimafia oggi al CSM Nino Di Matteo a proposito della nomina nel 2018 a capo delle carceri di Basentini defenestrato e sostituito nei giorni scorsi come spiegato nel servizio precedente l'accusa è di quelle che fanno male anche due anni dopo il sottinteso velenoso del retroscena secondo cui il Ministro avrebbe prima offerto e poi ritirato la poltrona di capo del DAP per Di Matteo in quanto sgradito ai boss è infatti ancora più velenoso alla luce delle polemiche per le scarcerazioni di centinaia di detenuti per reati connessi alla mafia a causa dell'emergenza coronavirus non hanno voluto me perché non lo avrei fatto e il messaggio che il PM ha implicitamente veicolato in tv così appena uscito dall'occhio del ciclone con il cambio al vertice del DAP Bonafede diventa per il governo l'epicentro di nuove scosse e per il PD è lo stesso conte elemento di forte imbarazzo un tweet del vice segretario Orlando lo testimonia in presa diretta gravissimo se un ministro si dimettesse per i sospetti di un magistrato sinché non verificato un sospetto resta un sospetto scrive difendendo Bonafede con la premessa però che Bonafede forse non ragionerebbe così allusione ponderata al rapporto privilegiato avuto fin qui dal Movimento 5 Stelle di cui Bonafede è una delle voci più autorevoli con la magistratura inquirente in particolare con lo stesso Di Matteo i 5 Stelle prendono tempo Bonafede aveva già dato disponibilità a riferire alla commissione antimafia sottolinea lo staff del presidente della commissione Nicola Morra e quello dello stesso Bonafede che poggia la sua difesa sul concetto che il ministro era già al corrente al momento della proposta di nomina di Di Matteo al DAP delle intercettazioni in cui i boss dimostravano di non gradirlo non si sarebbe insomma fermato per quella ragione ma la questione resta scivolosa a meno di nominare come prova a fare Forza Italia alla versione di Di Matteo sottolineando l'inopportunità della sortita televisiva su una vicenda così delicata con il Quirinale che osserva ma a distanza perché si sottolinea la nomina del capo del DAP non c'entra con il CSM di cui il capo dello Stato è presidente e poi c'è il problema a scuola si ritorna al punto di partenza bocciato il progetto della ministra Azzolina su una didattica appunto a metà metà studenti in classe e metà a casa questa potrebbe essere una soluzione per gli studenti più grandi ma per i bambini per gli studenti per gli alunni più piccoli bisogna pensare a nuovi spazi prima una precisazione apparsa quasi come un dietrofront poi un'intervista per spiegare quanto sia difficile in questo momento decidere sul futuro della scuola la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina in vista della riapertura delle scuole a settembre aveva avanzato la proposta di alternare la presenza degli alunni in classe con l'insegnamento a distanza una dichiarazione che ha suscitato un certo malumore tra le associazioni sindacali della scuola ma anche tra i presidi e i genitori degli alunni stavo parlando di un'ipotesi ha chiarito la ministra che riguarderebbe solo i ragazzi più grandi una fascia d'età che non metterebbe in difficoltà le famiglie per i più piccoli invece aggiunto sarà necessario immaginare altri spazi oltre quelli tradizionali e sfruttare parchi ville teatri spazi di associazioni che già collaborano con la scuola non sarà facile a concluso mettere insieme il puzzle di decisioni che ci porterà a settembre Patrizio Bianchi presidente del pool di esperti del ministero ha spiegato che il piano si baserà su due principi quello dell'autonomia delle scuole che saranno chiamate ad elaborare proposte e quello della collaborazione tra gli istituti e gli enti locali per poter utilizzare nuovi spazi per gli alunni entro la fine della prossima settimana la commissione presenterà le prime proposte concrete per elementare il vice ministro dell'istruzione Anna Ascani ha spiegato che i bambini potranno svolgere a giorni alterni diverse attività con maggiore attenzione allo sport alla musica all'arte i sindacati dicono di essere pronti a un confronto aperto e serio e chiedono che le decisioni delle singole scuole rientrino in un quadro nazionale di orientamento intanto torna a far discutere il problema della maturità che dovrebbe essere svolta in presenza a partire dal 17 giugno i presidi hanno chiesto al più presto un protocollo per la sicurezza altrimenti dicono si potrebbe tornare all'ipotesi degli esami a distanza in Germania invece i più piccoli oggi tornano a scuola si aprono musei e parrucchieri riaprono i negozi anche in Portogallo e a Bruxelles invece si apre la conferenza per la raccolta fondi per un vaccino europeo parte oggi a Bruxelles nel giorno di tante riaperture nazionali dopo il lockdown antivirus la conferenza internazionale dei paesi donatori del patto europeo il mondo contro il covid-19 è la prima iniziativa della commissione europea con i capi di stato e di governo di Italia Francia Germania e Norvegia punta ad un piano di cooperazione globale finanziaria e scientifica per la ricerca di un vaccino primo obiettivo la raccolta di almeno 7 miliardi e mezzo di euro 8 miliardi di dollari coinvolgendo scienziati industria e governi vogliamo che la soluzione all'epidemia diventi un bene pubblico globale accessibile e alla portata di tutti ha dichiarato la presidente della commissione Ursula von der Leyen anche se stando al Financial Times la spesa per un programma di immunizzazione esteso potrebbe aggirarsi non al di sotto dei 25 miliardi di dollari e per il ministro della sanità tedesco correranno anni di ricerca per sviluppare un vaccino contro il coronavirus col tasso di contagio in calo costante e 43 vittime e il numero di decessi più basso da fine marzo la Germania oggi riapre le scuole elementari e i musei tra le attività economiche e i parrucchieri mentre dopo domani l'incontro stato regioni dovrebbe dare il via libera ad altri settori in testa quello gastronomico che accusa forti perdite e teme un'ondata di fallimenti la pressione sul governo delle associazioni di categoria aumenta da giorni ma la cancelliera Merkel resta prudente anche in Spagna scatta il primo giorno della cosiddetta fase 2 già in parte testata nel weekend le mascherine sono obbligatorie su autobus treni aeree i navi e il governo ne distribuirà 14 milioni riaprono anche i negozi con una metratura inferiore ai 400 metri quadrati le restrizioni si alleggeriscono anche per i ristoranti da oggi si potrà ritirare di persona le ordinazioni a Parigi il governo ha annunciato che le persone in arrivo in Francia dallo spazio Schengen o il Regno Unito non dovranno sottoporsi ad isolamento obbligato per i viaggiatori esteri oggi la ministra del lavoro Penicot ha deciso che il telelavoro da casa andrà avanti almeno per tutta l'estate slitta invece a domenica prossima da giovedì la presentazione da parte del premier britannico Boris Johnson di un piano sulle tappe di una graduale fase 2 sull'emergenza coronavirus ed un allentamento del lockdown introdotto nel Regno Unito il 23 marzo Johnson ha annunciato che occorrerà prima verificare 5 precondizioni di ogni alleggerimento delle restrizioni ad iniziare da un calo significativo dei decessi negli Stati Uniti invece è partita l'offensiva politica contro la Cina sull'origine del coronavirus il fronte contro la Cina ormai è aperto tanto da far tremare i mercati mondiali e Trump non intende certo mollare la presa anzi la sensazione è che lo scontro possa diventare il cavallo di battaglia dell'intera campagna elettorale da sfruttare in vista delle presidenziali di novembre le accuse dirette del segretario di Stato Pompeo le prove che il virus arrivi dal laboratorio di Wuhan e che hanno fatto di tutto per nasconderlo nelle ultime ore sono state rilanciate e amplificate dal presidente intervenuto su Fox News è mia opinione che abbiano commesso un errore che abbiano tentato di coprirlo spiega Trump che annuncia l'imminente diffusione di un rapporto che dimostrerà come la Cina abbia insabbiato informazioni vitali che viceversa avrebbero potuto limitare la diffusione del covid nel resto del mondo in particolare che Pechino tagliò le esportazioni di forniture mediche prima di notificare all'OMS che il covid era altamente contagioso la replica oggi è affidata a un tabloid che però di fatto è la voce del partito comunista cinese il Global Times che sfida Washington a presentare le prove contro Pechino prove che scrive ancora il Global Times in realtà non esistono perché il caso è solo un blef nel frattempo Trump minaccia persino di far assaltare l'accordo preliminare sul commercio se la Cina non dovesse onorare gli impegni presi e acquistare nei prossimi due anni beni e servizi per un ammontare di 200 miliardi di dollari in più rispetto ai volumi del 2017 un impegno gravoso che Pechino farebbe fatica a rispettare a causa della pandemia che intanto continua a imperversare soprattutto negli Stati Uniti Trump ammette di aver sottostimato il numero delle vittime ne avevo previste 65 mila invece credo che saranno tra le 75 e le 100 mila facile previsione visto che ad oggi si contano nel paese 68 mila morti e i contagi sono largamente sopra il milione nonostante ciò molti stati sono usciti dal lockdown e in altri si protesta contro le restrizioni dobbiamo riaprire in sicurezza ma velocemente troppi americani sono in grande difficoltà economica per il coronavirus afferma ancora Trump fiducioso che entro la fine dell'anno il vaccino arriverà allora dicevamo nel servizio che queste tensioni hanno immediate ripercussioni sui mercati finanziari proseguono in profondo rosso tutte le borse europee in questo momento Milano arretra del 3,7% e lo spread è a 236 punti per il momento ci fermiamo per la pubblicità torniamo subito dopo con le notizie sportive a tra poco eccoci di nuovo in diretta dunque la fase 2 prevede anche la ripresa degli allenamenti individuali per gli atleti degli sport di squadra alcune società calcistiche hanno riaperto i loro impianti anche se il ministro Spadafora ha sottolineato che non è affatto scontato che il campionato possa ripartire bentornato calcio ma forse è più giusto dire bentornati calciatori i loro luoghi abituali di lavoro sono stati riaperti quando ormai sembrava un'ipotesi accantonata ma cambiano le modalità di svolgimento delle funzioni lo spiega con minuzioni particolari il sito del Sassuolo che da stamattina è il capofila di questa rinascita sei atleti ogni ora su diversi campi senza tecnici ma con un presidio sanitario d'emergenza la parola d'ordine che vale per tutte le squadre è sedute individuali e per alcuni club facoltative restano chiuse palestre e spogliatoi i campioni tornano ragazzi arrivano già cambiati e riprendono la via di casa per farsi la doccia rigorosamente vietato il pallone la tutela sanitaria prima di tutto il Napoli da oggi esegue tamponi a domicilio per i giocatori visite cardiologiche e test per la Roma a Trigoria prima di ricominciare a correre tra mercoledì e giovedì la Lazio ha fissato la ripresa per il 6 si snoda lungo la penisola il serpentone di tute e magliette che sfileranno in questa settimana con le sembianze dei vecchi ritiri estivi quando il primo comandamento era accumulare il fiato domani si aprono le porte anche per l'Inter e la Juventus che hanno gestito diversamente il tema degli stranieri che hanno lasciato l'Italia già a disposizione di Conte mentre adesso sono stati richiamati i bianconeri che a rientro devono osservare la quarantena piccolo contrattempo per Cristiano Ronaldo il suo oggetto è privato a causa delle limitazioni al volo imposte dalle autorità portoghesi non è stato semplice giungere al disco verde per il graduale ritorno agli allenamenti alcune regioni hanno forzato la mano rispetto al governo poi l'ok di ieri anche da parte del Viminale che ha uniformato tutti e infine le linee guida del Ministero dello Sport nell'era Covid il ministro Spadafora sottolinea che per lui nulla è cambiato gli allenamenti di gruppo non riprenderanno prima del 18 maggio e di giocare le partite di campionato per ora non se ne parla dunque potrebbe restare una grande illusione se non si troverà una congiuntura tra la politica e il calcio al centro c'è sempre il solito protocollo medico in attesa di giudizio a breve dovrebbe esserci un nuovo confronto tra il Comitato Tecnico Scientifico del Governo e la FIGC non soltanto calcio perché con la fase 2 si riaprono le porte dei centri sportivi e delle piscine almeno per gli atleti professionisti e delle nazionali state vedendo Federica Pellegrini che questa mattina tra l'altro Federica Pellegrini nei giorni scorsi aveva polemizzato proprio sui privilegi riservati al calcio ecco questa mattina è tornata in vasca l'olimpionica del nuoto ha ripreso ad allenarsi al centro federale di Verona e state vedendo appunto la sua prima notata dopo il lungo lockdown e adesso ci fermiamo ma prima vi voglio ricordare la nostra sottoscrizione un aiuto contro il coronavirus la sottoscrizione insieme alla Gazzetta dello Sport e al Corriere della Sera che stanno promuovendo una raccolta fondi destinata all'acquisto di attrezzature mediche di prima necessità è possibile effettuare dei versamenti sul conto di intesa San Paolo filiale terzo settore Milano città intestata un aiuto contro il coronavirus vedete sopra pressione il codice IBAN che potete anche ritrovare sui siti delle Corriere della Sera della Gazzetta dello Sport e della Sette grazie per averci seguito e buona giornata a tutti voi grazie a tutti